Una curiosità ed un calcolo da fare. Sul globo della Terra Palla che, come racconta la narrativa ufficiale, ha un raggio di 6371 chilometri, quanto dovrei trovarmi alto per vedere questa risoluzione angolare senza rifrazione? Voglio essere più preciso. Se la prima punta si trova ad una distanza dal mio punto di osservazione di 2 chilometri e 300 metri, la seconda a 11 chilometri e 700 metri e il litorale in fondo a 22 chilometri e 200 metri, a che altezza dovrei essere per vedere così? A proposito, questo non è un disegno, lo giuro. Oggi voglio condividere queste nuove incredibili osservazioni che ancora una volta dimostrano la Terra Piana. Queste prove le ho prese dal canale YouTube di Heat Carmody, link nella descrizione. Come abbiamo detto, se la Terra a globo ha un raggio di 6371 chilometri, come sostengono nelle affermazioni ufficiali, allora la distanza massima dell'orizzonte in chilometri si può ricavare con questa semplice formula. Si moltiplica 3,57 per la radice quadrata dell'altezza dell'osservatore in centimetri diviso 10. Vi ho sempre consigliato di fare le rilevazioni sui laghi più che sui mari, per le temperature più miti, e sopra il metro e mezzo, più bassi entrano in gioco la rifrazione, l'effetto miraggio, l'evaporazione dell'aria, eccetera, a causa della differenza di temperatura. Sono gli stessi fenomeni che si rilevano anche all'interno di un comune garage di casa, come potete osservare nel video rifrazione e compressione micro. Il problema è che i propagandisti, meglio i credenti del globo, denigrano queste prove matematiche osservabili, visibili, ma già fin dai primi anni della scuola dell'obbligo si insegna a non credere a quello che si vede, ma alle teorie dei libri. Per i più grandicelli addirittura diffondono falsità come ad esempio nel video National Geographic in Broglia, dove sostengono che la zattera scompare dietro la curvatura, ma l'orizzonte appare ben oltre della distanza che risulta dalla formula matematica che ci dà appunto questa distanza. Trovate tante dimostrazioni riguardanti le tematiche sull'orizzonte. Se è il caso, fermate il video e poi spulciatevi l'indice alfabetico. Per i più curiosi non dimenticate il criterio di Ryleg, disco di Airy, perché anche le fotocamere sono fornite di obiettivi e questi sono rotondi, esattamente come i nostri occhi e producono effetti ben precisi. La ripresa del nostro video è stata fatta nella Baia Shelter della Columbia Britannica, in Canada. La prima penisola si trova a 2 km e 300 metri di distanza, la seconda a 11 km e 700 metri e il litorale in fondo a 22 km e 200 metri. Il nostro osservatore ha posizionato la fotocamera a soli 7 cm e mezzo dall'acqua e se usiamo la nostra formula 3,57 per la radice quadrata dell'altezza dell'osservatore, che in questo caso è di 7,5 cm, che ha una radice quadrata di 2,74 diviso 10, ci dà il risultato di 0,98 km, esattamente come il calcolatore online. Questo significa che l'orizzonte dovrebbe essere molto ma molto più vicino, a meno di un chilometro e non permetterebbe nemmeno di vedere la prima penisola. Significa che non si dovrebbe vedere nessun orizzonte oltre a quel punto se il globo fosse vero. Ed ecco le dimostrazioni del video da soli 7,5 cm di altezza. Questo è approssimativamente dove dovrebbe essere l'orizzonte a metà strada dalla prima penisola. Se siete osservatori attenti, osservatrici che ragionano, già qui dovreste vedere il problema. Il globo non combacia con la realtà osservabile e non è assolutamente vicino a questa realtà. Punto. Ci stanno mentendo da molto tempo, ci stanno mentendo su tante cose e questo è il motivo per cui combatto per portare avanti la conoscenza del nostro regno piano. Perché non si tratta di un problema di opinione, non si tratta di orientamento politico, non si tratta nemmeno di fede. La terra è piatta. È osservabile. Si può testare. Le prove si possono ripetere. La terra piana è la scienza vera che chiunque può non solo capire, ma può eseguire le prove, indipendentemente dalla formazione scolastica, dalla cultura. Penso che la terra piana è la strada per fermare questa tirannia. E se condividete questo, condividete il video, ovunque. Grazie. Dino.